sperando che tutto funzioni iniziamo a ripassare la grammatica dell'N1 magari mettendo sul file perché se no Ikanda significa dipende da ed è più pesante di Shidaida io sapevo Shidaida e lui mi dice Ikanda molto bene Ikanda quindi qualcosa prima lo scriviamo in modo corretto adesso che abbiamo il simbolo giusto dipende da nome più no che non può esserci più Ikanda quindi questo no lo evidenziamo Ryu ragione checca risultato Giochio e situazione è giusto Giochio ho scritto Giochio è situazione e Dorioku e impegno o no Occhio-Rioku questo non dovrebbe essere Dorioku e poi assomiglia a sempre naturalmente queste parole più Ikanda o più no Ikanda queste sono le parole con cui si trova di più e poi abbiamo che è simile a K c'è la regola K in IK che sarebbe o è così o non è così o è Pomi o Kadoka che lo conosciamo benissimo lo faccio o non lo faccio o che assomiglia a Shidaida però è più pesante o Nikakateru che dipende da comunque ci sono tutti dipende da in mille modi diversi questo è così o è Pomi o dipende da Niteru questo è simile o uguale gli esempi sono Shiai Ni no Shiai ciao iniziamo bene Shikenni Gokaku de Kiru Kadoka si riuscirò o meno a essere promosso all'esame Minasan no Dorioku Ikandes dipende dall'impegno di tutti Konokatsu do Ga Ga ma Cino Itotachi no Rikai o Erareru Kadoka qua che cacchio è successo mi sono ripicciolito tutte le scritte figa mi è successo qualcosa questo file Rikai Erareru Kadoka o Watashi Tachi no Ataraki Kake Ikandato Motero questa attività se sarà accettata o meno o capita da dalle persone di questa città penso che dipende dal nostro modo di lavorare Mawarin Gashinpais Temo Shkata Garima Sen non possiamo farci nulla se siamo preoccupati perché c'è l'intorno Sai Shute Kiniwa Onni no Yaruki Ikandes dipende da quello che vuole fare lui cioè la persona in sé eh Ikane come Shidai eh c'è scritto così qua c'è una regola che è diventata in miniatura non si sa per quale ah perché mi si era come si chiama mi aveva cambiato la formattazione del file perché era troppo grande adesso c'ho tutte le parole in miniatura fighe devo rifare tutto il file praticamente ottimo Shute Kini Na Re facciamo in colla no me lo fa in piccolo però si sono rimpicciolite tutte le ah no vabbè faccio così scusa facciamo il contrario prendo questo ingrandisco mi ha cambiato tutte le formattazioni vabbè questa è seconda regola secondo regalo quindi facciamo così così segniamo le regole una è questa questo qua Ikande è uguale a prima ma al posto di Da Ikande o Ikanyote che sarebbe per quel che riguarda Kadoka Niyote Naio Niyote sarebbe sì per quanto riguarda dipende da è un altro dipende da ma è per quanto riguarda sta roba allora Kadoka Niyote No Naio Niyote Uyuhimi Sono Naio Gam Mondaito Narwono che è la stessa cosa ma che differenza c'è tra Ikande Niyote e Ikanda è uguale per me ci dà idea vediamo per me è la stessa cosa infatti ho scritto dipende da in tutte e due però in teoria c'è una differenza Ikande 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 qua non ho messo la traduzione perché è uguale a quella sopra quindi è inutile che mettono Ikande Ikande sarebbe per quanto riguarda allora nome più no più Ikande il no può esserci come non può esserci quindi lo evidenzio Ikande Ikande più l'altro le parole con cui si trova di più sono Ryu che è ragione Kekka che è risultato Yarikata modo di fare Taiyo non mi ricordo mai cosa si chiama dipende da Dorioku impegno Kangekata modo di pensare Naio contenuto ed è simile a Shidaide infatti è la stessa cosa Dewanide ta Shain no Taiyo Ikande Kai shano Inshoga e Kimatte Shimau allora dal dipende dal modo in cui l'impiegato risponde al telefono viene decisa l'immagine dell'azienda Chiamako Questo è Kanja Sanno Kimocino Mocicata Ikande Riabilino Kekka Mo Kawatte Imas In base allora in base al sentimento a quello che prova il il paziente anche i risultati del della riabilitazione cambiano cose molto importanti Questo dovrebbe essere Kamoku Toroku Kamoku Toroku No Enko Nitsu Yote Wa per cambiare la registrazione al corso Sonoryu No Ikani Yote Wa Questo qua è lo di Kakunin che non Motomeru ma non è Kimeru è oh mio Dio Motomeru no non è Motomeru non è Tascameru non mi ricordo più è quello di Kakunin mi sono sicuro ok lo so maravvino cioè c'erano sulla punta lingua non avviene lui caniglotte ma Cimerarero Cimerarero no non è Cimerarero mi viene in mente Mitomeru Mitomeru ok ce l'abbiamo fatta Mitomeru by Morimis allora per quanto riguarda il cambio della registrazione del corso se è camocco si dipende può essere deciso in base al a quelle ragioni boh ma no ma ha cambiato tutte le frasi ma che cacchio è tutte le ogni tot frase ma ha cambiato il simbolo perché era troppo lungo il file ma devo rifarlo tutto però che due maroni adesso mano a mano lo modifico perché mi aveva cambiato il formato del file poi c'è solo certe righe per farlo stare almeno che adesso non lo copio e lo rifaccio dall'altra parte vabbè muo vediamo però mi da fastidio devo rifarlo tutto vabbè andiamo avanti se non fisco più questo l'ho fatto questo l'ho fatto top in base alle decisioni cioè al modo di pensare di chi è il top ci sa che te mo ante sta chi io o me sasca si può puntare a una una piccola sicura business yori okina riechi eto yori okina chi io o me sasca o puntare a una grande compagnia con grandi incassi kawateru cambia cioè praticamente in base al modo di pensare di chi è il top cambia il modo di pensare che può essere una una piccola società un piccolo business sicuro o un grande business con tanti guadagni però anche tanti rischi allora questo qua facciamo così per quale cacchio il motivo cambia tutti i formati anche la scritta è cambiata vabbè no i canni cacavarasu ni iorasu to o toasu senza senza dipendere dovrebbe essere vediamo senza dipendere sarebbe senza c'entra iroi naio ga kangailare rumo no ga kite ato desu non naio no ekyo o kenai senza dipendere mettiamo senza dipendere allora che è noi canni cacavarasu dove cacchio è scritto però che può cambiare in il no può esserci come può non esserci facciamo così poi no i canni iorasu ok è la stessa cosa e no i can o toasu ok nome ragione Ryu no i can poi il resto no no checca che è risultato no i can che si può mettere o toasu se è risultato e si usa con le parole checca è risultato Ryu ragione giocchio situazione naio contenuto moctekis topo kingaku a montare e questo qua è gigio come topo gigio ah si c'era scritto di fianco era gigio però lo mettiamo proprio là adesso lo so leggere prima non lo sapevo leggere situazione comunque allora Ryu no ikannika kawarazu serhi no empin tokan wa dekimasen allora riuno i canni kakawarazu allora senza una ragione senza una ragione non si può cambiare o restituire l'oggetto comprato buondì massi ti è arrivato il messaggio subliminale che mi ha detto ho provato di mettere il messaggio subliminale io non lo mettevo mai questo è questo è saio che 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 cano ikannika kawarazu ojo churui wa questo non me lo ricordo non ci ho guardato non ci ho guardato non ti è arrivato niente comunque questo non me lo ricordo en questo non me lo ricordo è in chiaco è in chiaco non so dove non so dove neanche io è in chiaco perché si ridare indietro ripagare è in chiaco mi ha cambiato tutti i file mi sta venendo un nervoso mi ha ricambiato tutte le scritte non so per quale cacchio di motivo ho fatto così va ho tutte le scritte piccole ogni tot mi ha scritto una scritta piccola va a caso ogni tot mi ha scritto le scritte piccole ma devo riscrivere tutto il file i due maroni è in chiaco è in chiaco me lo scrivo che non me lo ricordo è in chiaco comunque restituire allora senza dipendere dal risultato dal modo d'uso dal risultato dell'uso non si può cambiare tipo di o questo qua è obo modello di candidato però mi sembra strappo come la traduzione modello di richiesta applicazione iscrizione è in chiaco è in chiaco è in chiaco perché ho scritto troppe cose e mi è uscito fuori ti cambiamo il file ti va bene io ho schiacciato sì e me l'ha cambiato senza sapere il contenuto non accettiamo tramite telefono le richieste giochi o no i canno to wazu senza sapere la situazione ciusaggio de no travel inizio to wà per quello che riguarda i problemi nel parcheggio to ten wà se kinin o quello di makeru che non mi ricordo mai come si dice è praticamente la responsabilità di quello del negozio è quello di makeru ma non mi viene in mente come si dice questo makeru non è ma maku ma i ca lo sto inventando no noi noi no noi questo non me lo ricordo non mi ricordo un sacco di roba iniziamo bene oi o lo scrivo o se giusto perché tu si o o scriviamo cioè le parole che sapevo al contrario delle n2 quale parole invece di ricordarmene me ne dimentico o me ne osservo e questo qua non me lo ricordavo questo si questo lo devo modificare i due maroni sta roba veramente nika kateru dipendere da il problema è che sono tutti dipendere da poi ti dice quale dipendere da ti piace di più e devo capire cioè devo capire queste differenze qua se no sbaglierò sempre il problema è che sono tutti e quattro sono tutti dipende da e poi ti dice quale dipende da preferisci sono tutti uguali allora qua fuzzo che sarebbe verbo e basta è scritto fuzzo ma kadoka più e nome e nome e nesame le parole che si usano di più sono kekka e kekka e risultato dorioku impegno yaru chi avere voglia e katsu yako è fare i numeri questo è shuai vincere o perdere questo è kata kata e adesso non me lo ricordo era quello di prima i poi è quello di prima si i kan l'ho letto fino a un secondo fa adesso non me lo ricordo è shuai ok shuai questa è la traduzione di questo qua che non mi ricordavo adesso lo so shimuga yushu dekiru kado kase il team vincerà o meno wa kare no katsu yako ni kakateru dipende dai numeri che farà lui da come si comporterà lui kai shano shorai wa il futuro dell'azienda shinjin shinnyu shain scusate che sono i nuovi arrivati nomina san no dorioku l'impegno di tutti i nuovi arrivati questo non lo so assolutamente so so i kufu ah minchia l'ho beccato so i kufu è giusto creatività significa ni kakate mas dipende dalla creatività e l'impegno di tutti i nuovi arrivati allora questo qua è quello di shupan o das kado kawa allora so 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 kuen e zoku en c'ero quasi da su kado ka significa continuare la pubblicare kore ga dore dake ure ru chani kakateru dipende da questo quanto si venderà zoku io dico soku ma è zoku en ok continuare la serie questi sono gli esercizi noi dovevi guardare proviamo ma non ci ho capito un cazzo sinceramente kaeghino kekka e poi per forza ikande wa kono kikaku wa chushi ninaru kanose muaru allora in base al risultato della riunione potrebbe essere possibile che questo progetto o questo piano venga bloccato giusto shimekiri ga sugita mononizuite wa per quello che riguarda il sorpassare la data di scadenzia riuwa ikan ni kawarazu ukezuke masen senza una ragione valida non possiamo accettarlo se questo lavoro avrà successo o meno dipende dall'impegno di tutto il tempo riu no ikan he niyote o niyorazu nyugaku kinno enkinwa de kimasen allora dovrebbe essere riu ni ikan niyorazu giusto allora senza una ragione valida sarebbe non si possono ridare i soldi dell'iscrizione alla scuola cioè all'iscrizione all'esame dei soldi all'iscrizione all'esame asha che fa rima sempre con qualcos'altro tono questo qua è ko ko dovrebbe essere o ko 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 ho sbagliato ah infatti l'ho scritto ko negoziazione lo sbaglio sempre dico sempre ko ko perché assomiglia a quello di haruku allora ko do vedete io lo pronuncio ho perché questo si pronuncia o però è uguale ma c'è un segno quindi non si può dire uguale io ogni volta lo sbaglio e anche oggi l'ho sbagliato bravo questo qua lo ripasserò più volte rispetto agli altri aspettate che suona il telefono pim pim ok andiamo avanti dove cacchio mi sono perso Riul l'ho già fatto Asha l'ho già fatto però no Asha non l'ho fatta tu se andrà bene la negoziazione con la dita o no buccio o no tai o ikan ni kakateru no ci dovrebbe essere kakateru allora che vada bene la negoziazione con la dita o meno dipende dal modo che ha di fare il direttore cioè da quello che farà il direttore nay o no ikan dovrebbe essere o to wazu kaisha no shirio o mo chidas koto wa kinshi sarete imas senza dipendere dal contenuto portare a casa i documenti dell'azienda è vietato anche se non importa di che cosa si tratta ma se porti i documenti dell'azienda a casa non va bene di uno ikan ni kakawarazu dovrebbe essere senza tenere conto della ragione se in caso tu sia assente devi informare ok imano se katsuni manzoku surukadokawa se sarò soddisfatto della mia vita di adesso o meno kogin kogin no kanga ikata ikanda dipende dipende dal modo di pensare dall'individuo individuo allora qua niente ma cambia continuerò a dirlo ma mi viene il nervoso che mi ha cambiato le scritte non si sa per quale cazzo di motivo vabbè uto o uga 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 che significa non lo so uto uga 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 maiga non si capirà un kaiser qua sarà molto divertente uto e uga allora sarebbe verbo in forma verbo in forma u ah l'ho scritto almeno quello verbo in forma u u più to to o omo oga figa che bordello tomo oga aggettivo nata ienva via il nai diventa darò il nome ame più darò ok le parole con cui si trova spesso è tatoe forse ikani dovrebbe essere in altre parole donani in qualche modo nanio che cosa dare to con qualcuno e nannen per qualche anno poi continua e dopo trovate kankenai non c'entra kamawanai non è necessario non è importante onajida è uguale eikida eikida dovrebbe essere va bene dare kan nanio shio to kat de shok ognuno può fare quel cacchio che vuole ichichi kamawanai non mi interessa che me lo dice in turn che me lo viene a dire a uno ubi tatoe nannen ga kakaroka per quanti anni ci metterò zetaikono shiken ni gokakustai sicuramente voglio essere promosso a queste donne okanega ikura kakaroto per quanti soldi mi possa costare oianiwa saiko no shiryou uke sasetai vorrei farli avere la migliore cura i miei genitori donna ni hantai sarei oto per quanto tu mi sia contro cioè tu o per quanto mi siano contro ryugaku surutsu moride sua intenzione di andare a studiare all'estero konosaki dokoniku to da ora in avanti dove andrò kokode shiken kanarazu yakuni tatsu to omoymas qui cioè sarebbe kokode shiken dovrebbe essere kokode shiken kokode no infatti manca un pezzo questo esame vabbè aggiungiamo la rigola l'esame che farei qua sicuramente ti sarà di aiuto infatti mi sembrava strana la frase mi ero mangiato un nome ok poi i tori de yarunowat yendaroga farlo da solo sarà difficile zehi gyan bate o shi ma metticela tutta forza e courage soprattutto courage guardate che mi si sta scaricando il telefono e senza telefono non vivo non è vero può anche non suonare per sempre il telefono allora fuga umayka che sarebbe verbo in forma ou qua sarebbe meglio che metto verbo in forma ou invece di scrivere sta roba si facciamo così verbo ou così si capisce anche il verbo ou stessa cosa qua tomaito omayka non si capisce un capo non si capisce nada de niente qua facciamo la stessa cosa ok togliamo la doppia u facciamo una bella salvataina tatati e tatata soprattutto tatati allora verbo in forma ou e ci siamo quindi ico to o ga verbo in forma dizionario però qua non me l'ha messo però così aspetta qua non me l'ha messo così qua non me l'ha messo così però aspetta ok allora questo qua è diverso in questo verbo in forma dizionario però è scritto diverso sul libro boh è scritto diverso sul libro vabbè lo lasciamo così perché sul libro è scritto così e poi però sotto l'esempio dice diverso dice verbo in forma dizionario più mai maito o ga invece l'altro è mai mai e ga o maito che lo fai o no ok vabbè proviamo a scrivere così vediamo che cazzo viene fuori qua evidenzio sta roba per vedere la differenza se non si capisce ok si trova dopo in fondo cioè significa questo significa che prima trovate questa cosa e poi dopo significa kankenai non c'entra nulla kankenai non importa kateda sono kakimiei onajida è uguale tsumorida è intenzione di shinji oka shinji maiga ah ci credi o no ah perché continua però qua sarebbe il verbo in forma mas vabbè aspetta che magari qua l'avevo scritto o non l'ho scritto verbo no dice verbo verbo in forma negativa vediamo shinji oka shinji maiga shinji maiga che tu ci creda o meno korewa ontoniata kotonandes questa è una cosa successa veramente amega furoto furumaito ah ok quello dopo è così ok quindi questa è la continuazione che piova o meno shiaiwa okonawareru yodes sembra che la partita continuerà ito ga mite 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 iyo ga mite imai ga mite iro ah che le persone stiano guardando o non stiano guardando micid eni go mioste etari shite wa ikenai è vietato comunque buttare l'immondizia per te in strada haaga antaishio to shimaito che la mamma sia d'accordo o meno watashi wa n dagaku kerutsu morides io ho intenzione di andare all'università n ciao protolone vai tranquillo buon lavoro sakura ga saite iyo to imai to che il il fiore di ciglioggio sboccio o meno raishu mazu per fine prossima settimana anamini ikuko toninateru ho deciso di andare a vedere i fiorellini ok quindi qua abbiamo verbo in forma ou questa cosa come la devo scrivere perché non c'è così non va bene verbo ou verbo ou non si capisce un cazzo il verbo ou è verbo ou verbo ou più nome ah qua io ho fatto gli esempi sotto ok oga non importa nakoga wamekoga ok o o è così o o poi abbiamo otto otto che sia così o pomì che sia così o cosà che sia così o cosà vabbè verbo in forma quella futuro o tutti insieme appassionatamente nakoga che pianga o wamekou non me lo ricordo più cosa che significa è agitarsi o lamentarsi o wamekou cioè tipo agitarsi o lagnarsi o lagnarsi o lagnarsi o lagnarsi o lagnarsi vediamo si piangere si appare ahhh nome inu daroka che sia un cane un gatto qua è che sia vicino lontano e che mi piaccia o che mi odi quindi ok abbiamo tutti però qua bisogna stare attenti che viene messo karoga ai nomi viene messo allora i nomi aggettivi na e daroka invece con gli aggettivi diventa karoga ok e poi allora questo è l'asterisco che prima avete sta pappardella qua dopodiché avete kankenai non importa kamawanai non mi interessa che ugualare prima kate come si chiama dipende da cioè quello che fanno le persone di proprio nagida è uguale tsumorida è intenzione di inu daroga nego daroga che sia un gatto o sia un cane il mio papà non mi ha permesso di allevare cioè non mi ha dato il diritto di vivere con un animale nakoga questo è wamekoga wamekoga che pianga o che mi mette a strillare questo lavoro lo dovrò fare di solo che la casa sia vicino o lontano non c'entra niente esci di casa in modo tale da non arrivare in ritardo che era quello che dicevo sempre io ai ragazzi tsukidaroga kirai daroga che ti piaccia o non ti piaccia kenkono tameni yasai o tabitaogai sarebbe meglio che per la salute ti metti a mangiare l'inzalavut cioè la verdura che è quello che non faccio io verbo ou ormai niente raggiungiamo tutti i verbi ou dove cacchio è? non c'è verbo scritto però non c'è scritto verbo uga non c'è niente ah sì sarebbe nagaroga sarebbe questo qua uga nagaroga quindi che cosa questo qua non c'è niente c'era la uga e l'ho detto ma invece no vuoi che c'è da ruga uga nagaroga che sia non lo sia non mi ne frega assolutamente nulla allora c'è n daroga che significa che se cain scusate cain è il membro che tu sia un membro o meno questo è l'aggettivo i omogaroga omocaroga diventa e omocunacaroga praticamente uno è affermativo negativo affermativo che tu lo sia o che non lo sia che tu sia pesante o non sia pesante tocui da ruga che tu sia in grado cioè che tu sia bravo o non sia bravo tocui da nagaroga poi è un bordello ricordarsi tutti i cambiamenti però ci siamo capiti però lo stesso qua non avevo voglia di scrivere le parole infatti non le ho scritte perché le parole che si usano di più vediamo non le ho le ho saltate forse perché erano uguali a questi ho detto quindi sono uguali non le scrivo ok sono simili a questi quindi copio incollo e devo togliere c'è 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 non c'è devo togliere solo questo che tu sia un membro o no che tu sia un membro o meno oggi ci sarà lo sconto del 20% per tutti che sia pesante o no dobbiamo portare le valigie a mano lo stesso tokuida roga tokuide nagaroga tokuide nagaroga ikitorisaki towa egode anasanakereban aranai che tu sia capace che tu sia portato o non sia portato bisogna parlare all'altra persona degli affari in inglese di ekiga nagaroga che ci si approfitto meno che ci si approfitto meno con jigyo wa yaranakereban aranai bisogna fare questa cosa si deve fare questa cosa toiedomo allora tatuete mo questo è un esempio e jigyo handanga kawaranai non ho scritto niente anche se si tratta di kutsu yori yori namono kitai di kiru mono e grazie per il follo thank you per grazie toiedomo però volevo tradurlo in una maniera un po' decente che si tratti dovrebbe essere per esempio tipo anche se si anche se si tratta di se è giusto allora puro che professionista qua non ho messo neanche il ah l'ho scritto qua sopra non c'avevo voglia di inserire la riga nome che è kiyoshi si usa il nome che questo è scusate kiyoshi no kiyoshi si kiyoshi kiyoshi o kiyoshi o kiyoshi o kiyoshi kiyoshi professore pro si protagonista professionista kiyoshi è il professor shaccio il testa di capo kazoku la famiglia e tu modaci dopodiché trovate il tuo yodo mo anche se si tratta di protagonista adesso comunque ci sono ieri kiyoshi to yodo mo anche se si tratta del professore ukarishtè tanjunna macigai o surukoto aru come me senza accorgersene potrebbe fare errori semplici e facili sbagliare cose facili kokyu ristoranto to yodo mo anche in un ristorante di alto livello kuchini awana eriori wa aru ci sono cibi che non ti piacciono shaccio to yodo mo kai sha o shibutsuka non so se si dice shibutsuka shibutsuka si si dice shibutsuka che significa anche se si tratta del capo non si può appropriare delle cose dell'azienda cioè non può fare su le cose dell'azienda sono dell'azienda kazoku to yodo mo anche se si tratta della famiglia kogin no privacy wa soncho soncho sare na kerebana e anche se si tratta della famiglia bisogna si deve rispettare la privacy individuale che parole difficili allora tomo tomo questo è verbo in forma ou niente gli piace il verbo in forma ou tomo tomo anche se non cambi idea tomo tato donna ni gioco andan kawaranai non cambia la situazione kawaranai ishi andano una cosa che esprime una decisione che non cambia anche se non cambia l'ho già scritto verbo in forma ou quindi questo è antaishio anche se sarai contrario aggettivo na benri che diventa benri il na va via diventa benri de haroto anche se è comodo ci sanaie de haro anche se è una casa piccola e le parole che si usano di più è tatoe per esempio i cani i cani in ogni modo e donnani in qualsiasi modo cioè qualsiasi sì comunque ok allora oia donnani antaishio tomo watashi wa jibun no ishi o kainai per quanto dovrebbe essere per quanto i miei genitori siano contrari io non cambierò il mio modo di pensare dovrebbe essere più che anche se per quanto per quanto ok almeno adesso mi viene così per l'altra volta mi era venuto anche se i cani benri de haro tomo costo ga kakari sugiru monowa dame da per quanto sia comodo se una cosa costa troppo è no questo sono io quando mia moglie vuole comprare qualcosa per quanto la casa sia piccola voglio voglio avere una casa mia che abbia compreso il giardino per farci che cosa non si sa ok facciamo gli eserzazi cioè facciamoli faccio io voi guardate lì saikin shigoto gaizu kashino ed è visto che sono impegnato ultimamente sono impegnato al lavoro nicio toiedomo metto sbagliato giusto e anche se si tratta di questo qua e dovrebbe essere di domenica non posso riposare allegria qua manco vabbè aggiungiamo una riga figa sto lì e salviamo soprattutto allora yoka che sarei yoka yoka sare sare maiga no sare sare non me lo ricordo era oga oga o oga maiga non me lo ricordo già più oga maiga mi sembra sì watashi wa ishoke me yaru dakida che mi che mi che mi che mi danno una buona valutazione o meno io ce la metterò tutta lo stesso cioè che mi validano bene che mi che mi ringraziano o meno dipende da un sacco di cose donna ni aiamare aiamare yotomo aiamare maito aiamare yotomo con kaino koto da che o ayurusema sempre quanto tu mi chieda scusa cioè questa volta non ti perdonerò non ti perdonerò takaga yakuyen de aru maito to yedo mo muda tsukai o ste waike masen de aru maito questo to yedo mo metterò anche se si tratta solo di 100 yen buttare via i soldi non va bene giusto qua vabbè è muda tsukai muda tsukai magari in giapponese lo scriviamo muda tsukai che è usare i soldi sprecare praticamente tsukai con la d tsukai ottimo do kode nanyo shiyoto kate daga dove che cosa fai sono solo fatti tuoi im ito no mi waku nanyo yonakoto dakewa suruna però non fare cose che possono dare fastidio agli altri creare fastidio agli altri nionga katoka makaioga che il giappone vincoperta perda watashi nikankyarimasen a me non me ne frega un cazzo forse non è così ma se studiate il giapponese capirete la dice donani tsurakaroto karewa keste akira merkoto anakata per quanto sia difficile lui non ha mai buttato la spugna keiken figa questo non me lo ricordo keiken questo è quello di ofu keiken ofuna ishi questo non mi ricordo se era toiedomo dovrebbe essere toiedomo egano sokini akensuru no wamus gashin sì è giusto allora dovrebbe essere anche se si tratta di un dottore con tanta esperienza è difficile scoprire subito il tumore keiken ofu cacchio l'ho beccato mamma mia mamma mia tema è a3 tema è tema è mani in avanti allora tema è che cosa niente non mi fa tenne anche la spiegazione mi scrive tema è buona fortuna toiu tachiba nanode in quella situazione toiu jibunno akenni ansuru kodo wade kinai to yuki mochi ora wansu no jibunno atsu gen ansuru kodo wade kinai to kin non posso fare in modo diverso no mai yakusoku ya sengen nado non io ho una promessa toru weki kodo tozen no andai una cosa che devi fare una decision cioè una cosa già decida prima di davanti che cazzo ha scritto verbo in forma dizionario o verbo in forma tamarro che è passato o teiru che è il gerundio più tema e praticamente sarebbe e nome kodo motaci più no no c'è o non c'è no c'è e il no quindi lo segnali quindi nome più no le parole con cui si usa di più sono iu dire kimeru decidere yakusoku suru promettere questo qua è quello di pubblicità sengen ue sì più o meno l'altro giorno stavo morendo però va bene sengen sì a parte che c'era scritto qua di fianco mettiamo un po' più là comunque lo so leggere allora nai wakeni wakanai questi qua sono dovrebbero essere quelli sì questi sono simili cioè sono altre regole zaru ue nai nakeri banaronai surushkanai no queste sono cose che trovate alla fine scusate dopo trovate questo poi dopo trovate questa roba qua oiano antaio oshikite ryugaku osta temae kanarazus sotsugyoste kaite kurutsu morida visto che prima questo non l'ho capito perché l'ho tradotto prima di davanti che cazzo significa dovrebbe essere considerando che mi sono mi sono sono andato a studiare all'estero contro la volontà dei miei genitori sicuramente devo tornare dopo che mi sono laureato grazie si sente? si è sentito? non si è sentito niente si è sentito si è visto? l'ho visto però si grazie cinque mesi mamma mia come passa Jean Létamp questo qua il tema è prima di prima di tutto prima di tutto visto che considerando che allora kodomoni è un bug dell'app in che senso? aspetta che guardo la mia live a tratti vedi nero? no io non vedo nero cioè va normale almeno in questo momento e non sto droppando niente no vedo normale no vedo normale qualcuno vede cose strane ditemelo prova da un'altra applicazione non posso andare lì con un'altra persona non posso andare lì con un'altra persona se no sei un po' un figlio di trota non mi piacciono i pomodori davanti ai bambini non posso lasciarli Zenbutabe Master l'ho mangiato tutto Arasan no Temae davanti ecco perché mettevo davanti a prima di tutto davanti a figa ecco perché così facciamo così ecco perché c'era davanti a c'era un motivo Arasan no Temae petto no anashi wa shinai yoni shimasta ho deciso di non parlare davanti a Arasan di animali Kanojo sai che lei ultimamente ah questo non so se si dice Ainu Ainu lo devo cercare non so se si pronuncia Ainu ha perso il cane chiamava tanto e una cosa invece che vi voglio insegnare è questa allora molti dicono Aineko anche i giapponesi dicono Aineko che sarebbe amato gatto ok però è sbagliato infatti non esce perché non si dice Aineko si dice Aibyo chiedete a un giapponese e questo qua ve lo legge Aineko però si dice Aibyo tutti i giapponesi leggono Aineko invece Aibyo infatti Ainu non so se dice Ainu o sono stronzo io vediamo in verità in verità dovrei essere di più da 5 mesi ma credo che le conti solo se le fai a catena no no te lo te lo conta anche se lo fai separato dove è Ainu ho perso ah non ho mai girato la panna qua Aiken si dice Aiken allora Aibyo ciao Decorutori questo si dice Aiken non si scrive Ainu adesso ve li scrivo allora Aiken ecco perché l'avevo segnato l'avevo sbagliato Aiken e invece Amato Gatto si dice Aibyo Aibyo però se lo chiedete a un giapponese provate a chiederlo anche a Beise questo qua ve lo pronuncia Aineco sicuro inserisci anche perché anche Mako dice Aineco quindi sono sicuro per quello allora e c'è scritto anche sul come si chiama su internet che trovate un sacco di gente che lo pronuncia sbagliato ma perché per loro è giusto è una parola che l'hanno sempre pronunciata così per loro è giusto ma correttamente si pronuncia allora questo lo segniamo questo è Aiken cioè lo segno per chi mai aprirà questo libro il motivo per cui avevo segnato questo perché anche adesso ho detto Aineu il kanji esce però il giusto è Aiken non Aineu allora To Are Ba normale più To Are Ba ok To Are Ba è nome più To Are Ba ok e si trova con Hitsuyo necessario Notanomi richiesta No Sassoe richiesta un medestino questo nome Okushin 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 però non mi ricordo il significato sì no questo pronuncia non è Okushin questo tipo lo so Onshi c'è scritto di fianco non lo so però non so neanche Onshi Notanomi non mi ricordo neanche questo qua dovrebbe essere la mo no non mi ricordo no non è la moglie aspetta ah il maestro a cui vuoi tanto bene figa il maestro a cui dai grandi carini Onshi maestro eh questo qua anche l'altra volta non me lo ricordavo infatti non so neanche adesso maestro ma ci sono due kanji su gisho per nico con lo stesso significato ma ci sono due kanji su gisho per nico con lo stesso significato eh sì ma poi sì eh Amato aspetta eh maestro eh ci sono anche più kanji che hanno lo stesso significato eh ancora non posso cambiare nick per fortuna eh Onshi Notanomi Tuarebako Tuaru Akeni Waikanai Se è una richiesta fatta dal mio amato professore non posso dirgli no eh se tu vai a cercare anche ma non mi ricordo anche i kanji più facili sotto a gisho sotto al kanji gisho ti mette anche i modi vecchi con cui lo pronunciavano infatti in molti kanji tipo uno facile Komu Komu che è quello che avete imparato voi questo eh c'è anche questo si può scrivere così e così è la stessa cosa affollato impegnato cioè affollato pieno di gente può scrivere in due modi ma ce ne sono una marea che si possono poi è normale che certe persone usano di più uno e altre usano di più l'altro vabbè metto il nome che mi hai messo su line vabbè bravo metti il nome che hai messo su line così si fa quando ho saputo che ero malato sono rimasto scioccato ma se questo è il destino devo accettarlo senti che parole e bibliche quindi se è sbagliato è colpa tua esatto è sbagliato dire di no quello è giusto carerano enso ga oh mio dio cosa ho scritto gio de mirare no nama nama scusate nama stavo pronunciando nama qua gli dicevo sempre a Marco anche un'altra volta to naruto no non esiste perché questo qua dovrebbe essere ni naruto però esiste to naruto ed è questa frase qua quando glielo ho detto fa no è sbagliato to naruto non esiste figa a me c'è scritto sul libro vabbè verbo in forma fu cosa significa verbo in forma fu mi drogo verbo cosa significa ah normale sarebbe cioè sarebbe fuzzo i kenai più mai nici tutti i giorni ma perché non ho scritto il resto delle cose verbo ah perché era tutto normale quindi non ho scritto niente ma i nici tutti i giorni no quella cosa non mondai quel problema più questa roba qua più musukashi difficile anashi wabetsu il discorso è diverso tokidoki ogni tanto soji suru nara ikedom va bene fare le pulizie ma nici to naruto tagliendo se mi si tratta di farlo tutti i giorni due maroni renshuno tokiwa ikedo va bene quando faccio allenamento shiaito naruto quando faccio quando si tratta della partita izumo chikaraga questo qua è akki akki de kinai non riesco a tirare fuori le forze wansan ga ikenai to naruto se il signor wan o la signora wan non viene kawari no ito un mitsuke nakereba narai bisogna trovare una persona che venga al suo posto kai gai ni ryugaku suruto naruto se si tratta di andare a studiare all'estero taienna questo qua dovrebbe essere kiyo ga kakaru io e costo questo ve l'ho insegnato anche a voi costo dulo kiyo tomo naruto tomo naribai il problema è che sono tutti simili cioè poi fai fatica è facile confonderle allora to yu to kubezon a jo kiyo yata chiba no bai in quel caso specifico se si tratta di una decisione scontata bo suso è il primo ministro quindi nome più quella roba lì e si trova con qualcosa anno dai gaxe che è lo studente dell'università che è con matrimonio suso tomo naruto kigaru ni juna kodawa de kinai se in caso in caso tu sia un primo ministro non puoi agire liberamente in modo spensierato perché ogni azione che fai pesa ti piace il gaxe gojunen tomo naruto kao omiru dake aite no kimo chigaru ormai sono già 50 anni che siamo sposati solo guardare la faccia dell'altra persona capisci quello che pensa ti piace il gatto si il gatto è bellissimo ma la smetti di fare iscrizione a tutti quelli che passano ormai sei diventato un iscrizionista saggio kai shikara jujikan tomo areba se dall'inizio del lavoro passano 10 ore questo è shugo shugo no è diverso shuchu shuchuryoku shuchuryoku ga teika stero questa è concentrazione shugo è mettersi insieme se passano 10 ore dall'inizio del lavoro anche la concentrazione scende shuchuryoku shuchuryoku la parola corta c'è scritta in iragane è corta verbo in forma se ve lo ricordate bakkoso se è così allora aggettivo bakkereba na de areba de areba aisuru amare shingiru credere omou pensare shimpa isuru preoccupare alla fine trovate ndes nodake sono i soliti che fanno come si chiama sottolineano quello che dici in verità ora voglio un po' ridurre ma le ultime sono abbonamenti regalate bravo karakoso che assomiglia a questo proprio perché niteru questo qua niteru simile aiste ireba koso wakareru keishin osta questa è la frase che dovete dire quando lasciate la fidanzata proprio perché ti amo ho deciso di lasciarti seito ta cinokoto omou eba koso koste kibishiku yonodes proprio perché penso ai miei alunni dico queste cose così se vede kanashimi ya sabishisa o kanjiru monou kanjiru no mo anche sentire la turistezza e la solitudine ikite ireba koso da è un modo di essere vivi significa essere vivi poi proviamo a fare gli esercizi dopo bevo perché già non ho più la saliva shinraiste 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 te bakoso te teire bakoso non l'abbia kare eni okina shigoto omakasetano da proprio perché credo in lui gli ho dato un lavoro importante gli ho segnato un lavoro importante aoki san no tanomi to areba tomo areba izokashi kutemo kutovarenai se si tratta di una richiesta del signor aoki anche se è una cosa se sono impegnato non posso dire di no kokosei demo naruto tomo naruto è mo questo oiani ienaiko tomo dete kurudaro questo non mi ricordo dovrebbe essere tomo naruto anche se si tratta di uno studente delle superiori ha qualcosa che non vuole dire i suoi genitori si gakse kibishi kibishi kutsui sta tomo naruto no tema è tema è kiyoshiga chikoku furuwake nikanai proprio perché dice agli studenti di stare cioè se veramente di stare attenti non puoi arrivare in ritardo cioè il maestro non può arrivare in ritardo omatsuri nimo naruto tomo naruto toga vc ha intervenuto nimo quando quando tomo naruto quando c'è sono i festival questa zona diventa molto in molto cioè molto piena di vita se si tratta cioè se si tratta dell'insegnamento per i bambini se ci vogliono un po' di soldi non ci puoi fare nulla storia è già intervenuto sì mi ha messo il culo in faccia stamattina oggi era molto mi metteva il culo in faccia e si strofinava io vabbè allegria piokoniku to piokoniku to piokoniku to itate mae proprio perché ho detto che sono andato in viaggio non posso omiyage o katte kaere nae wakeni kanai non posso tornare senza regalini visto che hai detto che vai devi fare i regalini ti nomade bioki bioki kinomade bioki datato areba ryoko kianseremo shkata kanai questo l'avevo sbagliato l'altra volta se fino a ieri era malato bisogna cancellare il viaggio questo l'altra volta l'avevo sbagliato invece adesso l'ho fatto giusto bravo bravo a me stesso qualcuno mi ha scritto scrivimi anche quando penserai che ti sei innamorata scrivimi e se non avrai da dire allora lezione ad 4 pensavo che erano corte le lezioni invece sono più lunghe del normale vabbè yoganai non essere in grado verbo in forma masu ok vabbè qua ho messo tutta la trafila potevo anche evitare comunque va bene verbo in forma masu yoganai non essere in grado allora non posso fare altro che così ok iu dire scu salvare ma cigerio sbagliare questo è oh mio dio taeru non me lo ricordo questo no non è taeru cos'è no non è cotaeru è quello di rei sembra quello di rei ma ah si è quello di rei ta to eru mamma mia che lo prende saga su e cercare poi quella roba lì e alla fine trovate curai più o meno o do che è sempre più o meno verbo in forma suru più no wakari nikui tomoga okani sezume no shioganae pensavo che non si capiva bene e non riuscivo a spiegare in altro modo non l'ho capito vabbè romano insho o chikareta che do mi hanno chiesto che cosa ne pensavo di Roma taisho o kuzuste zutto hotel de ne tetano visto che sono stato visto che sono stato in hotel a dormire sempre perché se sono stato male fisicamente kotae yoga nakata non ero in grado di rispondere kotae yoga nakata questo è enghi vabbè figlia l'ho scritto troppo vicino l'ho visto enghi è recitare sakhi no no seinshu cioè l'atleta fa recita no enghi wa monk no tsuki yoga naikurai subara shikata ma che cazzo significa perché fa ecco perché perché è strana la frase sì è giusto enghi vabbè la recitazione dell'atleta di prima che sarebbe il numero che ha fatto l'atleta prima non so perché usano recitare vabbè era così fantastica da non riuscire a dire nulla cioè da non avere nulla da lamentarsi vabbè con jiko mo mata axel to breki fumi machigai ta no ga ge indate axel to breki nante machigai yoga nai tomoyo anche questo incidente ancora la causa è dovuta perché hanno sbagliato a schiacciare l'acceleratore al posto del freno l'altro dice penso che non ci sia modo di sbagliare il freno con l'acceleratore almeno un intelligente c'è un nanto yu yoga nai fushigina e dana non so che cosa dire ma mi sembra veramente un disegno misterioso questo è fushigi misterioso fushigi ostra fushigi non è essere fushigi fushigi ah ok e niente qua mi ha cambiato tutte le scritte l'immortacci sua e di chi cazzo mi fa cambiare le scritte lo so perché mi ha cambiato le scritte sì lo so perché mi ha cambiato perché mi aveva detto non ci stai con i caratteri vuoi che ti cambia le scritte e io schiacciato sì allora yomo yomo che è quello dei di come si chiama quello dello yogurt verbo in forma mass io yomo kotairu si usa con vabbè yaru fare kotairu rispondere kangairu pensare e questo è tai oh mio dio tai saku o tateru tirare su un piano tai saku kokoni kokoni kokoi mise nanoni izumo aiteru questo è un negozio ma è sempre libero sodane mosukoshi yari yoga haruto mo che penso che aveva più possibilità ti sta bene grazie gano akenga mosukoshi ayakatarase avrebbero scoperto prima il tumore aspetta che lo leggo con le mani sui marone iroirona shiriono shiomo attanoni avresti avuto qualche possibilità di cura sorega zannendes mi dispiace che sia successo così che significa che onno tai to 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 ka questo è quello che sbaglio sempre che è chosha me che è il nome dell'autore to to ka wakareba sagashio mo harukedo allora se sapessi almeno il titolo o il nome dell'autore avrei potuto cercarlo kyonen wadai ninatta toyuda che già se mi dici che solo l'anno scorso era famoso quelle banane sai dove te le devi mettere fai bravo quelle tue banane poi scivolo yomo ganai non avere più possibilità yoganai avere possibilità invece l'altro è non avere possibilità sempre verbo in forma mas kotairu rispondere shiru sapere enji suru rispondere do suru cosa fare kaisano keiyeini kakawaru kotode visto che mi devo organizzare mi devo ho a che fare con l'amministrazione dell'azienda watashi tachini wa shiriyomo nakata visto che ha a che fare con l'amministrazione dell'azienda noi non abbiamo alcuna possibilità di saperlo kuruma o dokash takata che do volevo spostare la macchina i tori de wa do shiomo nakata non potevo farla da solo kaketsu suru hoho ganakata non avevo alcuna scelta niente non ci riesco non so cosa vuoi fare ma non farlo per cosa sei preoccupato se non me lo dici concretamente non posso aiutarti cioè non posso darti un consiglio unimo unimo nai a b a a brondatissima unimo nai verbo in forma o e quindi metterò verbo in forma o anime gianai anime gianai vorrei ma non posso kaironimo verbo in forma potere e voglio metterle insieme nai allora kairu de kakeru allora kairu è tornare a casa de kakeru è uscire okkiru è svegliarsi sagasù cercare e sasou è invitare verbo in forma dizionario ikunimo sempre verbo in questo significa possibilità potere ikeru nai e voglio metterle insieme non metterle insieme lascia stare le banane dove sono kanogio no ketaino ban no qua tai fu de de insiagato matè per il tifone il treno si è fermato kairinimo kairinai vorrei tornare ma non posso kanogio no ketaino bangoga wakaranakte non so il numero di telefono di lei rirako toronimo torenai anche se voglio contattarla non posso annino sagasonimo per cercare il criminalo questo qua è tesaki no aspettate lo so te ga kari te ga kari che sono gli indizi te ga kari per cercare il criminale l'unico indizio è questo biglietto colpito sono io il criminale con il numero di casa e il numero di telefono ok proviamo a fare gli eserzati tai sezuna kazoku o jiko de nakusunante oe no no kakeyo mo nakata perdere i genitori in un incidente cioè perdere le persone cioè perdere familiari importanti in un incidente non avevo cioè non avevo il coraggio di chiamarlo cioè di sentirelo non sapevo cosa dire Ryugaku no koto o so dan questo non mi ricordo più quel yo mo non me ne ricordo più shonimo o ya no perché sono tutti simili o ya no o ya no kigen ga o harukata no dede e kinakata volevo chiedere consiglio per andare cioè volevo chiedere consiglio per andare a studiare all'estero ma i miei genitori avevano di umore c'erano di buon umore e quindi non ho potuto a ryokoni iconimo shigoto ga ma che stai giocando adesso nakanaka kyuke gattore nai iconi già non me li ricordo più questi qua per ne li confondo avrei voluto andare in viaggio ma sono impegnato al lavoro e non sono riuscito a prendere le ferie questo è kyuka scusa o kyuka o kyuke kyuka dovrebbe essere ho detto kyuke invece kyuka kyuka è feria kyuka poi kosho no geinsai wakareba se si capisce la ragione per cui si è rotto suri no kyuka aru azuna c'è un modo per poterlo riparare ok passo con ni kuashi kunai no de visto che non sono cioè non ne so di pc karen shigoto tetsudau nimo tetsudai e nakata anche se lo volevo aiutare non potevo aiutarlo giusto si mo su kosho gutai tekini na shizu mo narà se fosse una domanda un pochino più concreta più più gutai gutai yo gutai yo mo aruno desga potrei rispondere no yoni monai perché yoni monai yoni monai aspetta che yoni monai yomo aru aspettate un secondo yomo aru e avrei la possibilità di rispondere quindi mi sembra più giusta questa qua scusate un secondo che controllo questa risposta quella 7 cioè la 6 dell'esercizio 4 non vorrei che come solito leggo le risposte sbagliate la 6 del 4 la 6 del 4 è a e yomo aru infatti ho risposto una cosa sbagliata io la 6 no no sto leggendo quello sbagliato 6 6 la 6 del 4 è a yomo aru infatti yomo aru comunque me la segno perché questa quando l'ho fatta l'altra volta l'ho sbagliata perché yomo aru avrei allora se mi fai una domanda concreta avrei possibilità di rispondere mi sembrava strano che ho risposto non potrei rispondere vabbè shizeng saigai wa i distrastri naturali wa fusegu 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 kotomonai fusegu yomo nai fusegu aspetta che sensei eh vabbè cosa devo fare no ma qua che sensei sto studiando non c'è poco da senseiare qua faccio casino anch'io perché questi qua sono simili quindi cioè poi ti spiega tutte le cose simili che cambiano di una virgoletta e qui quindi fai casino fusegu yo monai dovrebbe essere o fusegu kotomonai no fusegu yomo nai kotoga eh eh jizeno eh tai saku aizioda per allora per in modo tale cioè per in modo tale di avere la possibilità di difendersi dai disastri naturali c'è bisogno prima di fare un piano o un contropiano ok giusto tonari noe yaga ursak te benkyo ni shutsu shiyoni mo shutsu mo de kinai nella stanza vicino fanno casino vorrei studiare ma cioè nello studio vorrei concentrarmi ma non riesco a concentrarmi questo è shutsu che l'ho letto l'ho scritto anche prima niente è sempre quello è shutsu ryoku è concentrazione proviamo a fare questi esercizi non so come andrà perché è tutto un casino perché l'altro perché poi ti confondi perché sono simili vabbè però proviamo netto ok posto cos'è e io lavoravo sono entrato appena non l'ho capito in che senso nande mo ito qualsiasi cosa va bene nande mo ito nande mo ito ita tema e visto che ho detto che tutto va bene sono iro ga yada wa yenae non posso non posso dire dopo che quel colore non mi piace giusto questo qua è kaisai mo sankai me kaisai mo sankai me staff mo sukkari jumbi tomo naruto dovrebbe essersi la presentazione cioè questo evento si è già fatto tre volte staff mo sukkari jumbi ni narita ima ormai lo staff si è abituato a fare queste cose cioè è in grado di fare queste cose esatto cosa esatto cicchetto cicchetto che è il biglietto o mochi denai katano nyu jo wa riu riu no riu no riu no riu no io scrivevo il parletto e in live riu ikan otowazu okotowari steori mas allora le persone che non ha allora all'entrata le persone che non hanno il biglietto senza un motivo cioè senza una ragione vengono mandate via ok ok konokaisha de shika ataraitakoto ganaino de visto che ho lavorato solo in questa azienda okano shoku shoku batto kurabe yomonai non posso confrontarle con le altre mamma mia io scrivevo parletto in live bravo perché tu sei un po' stronzetto ekikara daigakumade basu de sanjupun ijo kakaru kakaru tonaruto unikakatte metto tonaruto se ci metto 30 minuti col pulmon ad arrivare a scuola dalla stazione koko osu koshi yameni di taogai sarebbe meglio che da qui esci prima tonaruto è giusto donna ni questo non me lo ricordo ah kega donna ni kega o tanto il messaggio non posso cambiarlo quindi sei al sicuro kega o shionimo shioga donna kega ni donna ni kenka questo è kenka litigare shioga kanojoa zutto atashi noi ciban noi jen shioga dovrebbe essere e metto shioga la 4 giusto per quanto io litigo con lei kanojoa zutto watashi noi chiban yu jindatta lei è sempre stata la mia migliore amica per forza e non ti dico il perché sasuga ni giugatsu kono fuku de wach otto samui a dicembre questi vestiti sono un po' freddi chiban ikande tomo naruto ormai siamo a come cacchio si dice novembre ottobre siamo a ottobre visto che ormai siamo a ottobre questo vestito mi sembra un po' freddo tomo naruto l'avevo sbagliato l'altra volta bene adesso ho fatto giusto io non conosco la situazione nanio kikare temo kotae kotae yo yoganai allora io non conosco visto che io non conosco la situazione per quanto me l'ho chiesti chiedi non posso rispondere ma io so che federica no federica non si usa più dal 1985 dato è oia questo qua è oia toiedomo dovrebbe essere dostemo anastaku naiko toaru anche se si tratta dei genitori c'è sicuramente qualcosa di cui non vuoi parlare ok allora qua è il giochetto di mettere in ordine le frasi voi la guardate da qua e poi mi dite ah no però queste le devo le devo modificare quindi sono rimasto indietro queste qua le devo modificare eh sì si è rimasto un po' old style queste qua le devo modificare perché qua erano le frasi da mettere in ordine ame daroga aree daroga shigoto 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 dakarai kanakerebanaranai quindi ame daroga qua e facciamo come cacchio dire così aree daroga ci penso io questa parte qua la tagliamo e la mettiamo qua perché questo era da dividere era così aree daroga 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 shigoto dakarai kanakerebanaranai questa era la risposta che è la 3 le risci e questa parte qua la taglio così si capisce anche l'esercizio se no non si capisce cioè praticamente erano in ordine sparso queste parole qua io le ho messe in ordine giusto e la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no qua non devo rispondere devo solo mettere in ordine le frasi conosci goto no se vedete che leggo storto è perché sto sbagliando conosci goto no eh dovrebbe essere giochi i cani io te shukin shinakere nici yomo eh allora giochi i cani ok giusto quindi inserisci cioè questo lavoro in base alla situazione si deve andare a lavoro anche la domenica e quindi quel cazzo che ci vengo al tuo lavoro de mierda aspetta sigotto no fino a qua shukin shinakereba fino a qua taglia taglio tutto taglia poi separiamo i pezzi giochi i cani matiamorso stamattina matiamorso stamattina aspetta che mi fai confo matiamorso stamattina no si morso un pochino non tanto però aspetta che mi metto in ordini nichi yomo shukin shinakereba vabbè naranai era il pezzo finale lo lascio qua non metto una riga solo per scrivere no per scrivere naranai e la risposta era questa allora doveva morderti di più allora dovevi morderti di più eh no allora sei sto pozzo donna ni isogashi donna ni isogashi daroga enjigurai enjigurai wa no me erano me isogashi allora donna ni isogashi daroga me erano enjigurai steoshi quindi enjigurai steoshi che è giusto inserisci isogashi garoga questo va sotto taglia allora questo uno due mer no enjigurai wa steoshi monodesto taglia e inserisci e questa era la una cioè praticamente questi sono i pezzi che erano erano in disordine e io li ho messi in ordine era praticamente allora per quanto tu sia impegnato vorrei che almeno mi risponde mi rispondesti tramite mail musume no koto ga taisezu warui koto starà taisezu de areba koso kibishiku shikarimasu io cosa ho detto non mi ricordo più taisezu de areba ah no l'ho detto al contrario taisezu de areba koso warui koto kibishikarimasu e si io l'ho detto al contrario non suonava male te su de areba taisezu de areba koso warui koto starà warui koto warui koto warui koto dove cacchia quando morirò te li darò e tu diventerai ricco grazie ai miei modellini che valgono un sacco di soldi tra parentesi e le mie sono le prime serie cioè non è che le ho prese sono un bordello di soldi adesso però io non le vendo perché sono stronzi infatti anche mia mamma dice ah tu io a casa poi si porta il camion a Varese ho tutti i fumetti di come si chiama di di Landog Martin Mister tutte le robe le prime serie anche kattivico kattivico è bellissimo e mia mamma vendili vendili io so stronzo perché sono il collezionista e non li vendo morirò con i fumetti e tutte le cose qua in casa porto tre camion taisezu de areba koso warui koto warui koto starà taisezu io cos'è che non me lo ricordo comunque vabbè se mia figlia visto che ci tengo fa una cosa brutta la devo rimproverare duramente comunque il significato quello poi taisezuna yujin no tanomi to areba tetsudai tetsudawanai wakeni wakanai tonomi de areba ok inserisce poi va a finire che finisce di merda cioè mi sa che devo devo togliere un pezzo o magari la grammatica la faccio da un'altra parte perché vedete mi modifica tutte le frasi e mi rimpicciolisce così in estate mi sa che sposterò magari sposto il vocabolario o i kanji tutti da un'altra parte gli rubo pure le mutande così in estate sta senza ma in estate sto solo con le mutande se mi togli anche quelle stiamo belli i fureschi allora abbiamo detto notanomi to areba notanomi notanomi to areba tetsudawanai wakeni 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 no così capite anche il senso praticamente sono da mettere in ordine e la risposta è la terza però la risposta è mettono l'asterisco ti sta piacendo te il soffo però se non la riesci a mettere nell'ordine giusto sbaglio comunque ce l'abbiamo fatta un'ora e mezza pensavo peggio annulla vabbè abbiamo fatto 30 facciamo 31 mettiamo è in ordine se no poi Prato dice no non è in ordine non si capisce voglio studiare il giapponino con questa voce così perché mi fa sempre su questa voce voi non lo sapete ma io lo so questo qua l'avevo sbagliato questo qua invece è kenka che è litigare molto bene è importante il kanji di litigare ovviamente e niente ah comunque però ti ho messo in ordine il file dell'n2 quando lo vuoi iniziare l'ho finito l'altro giorno adesso finiamo cioè adesso faccio prima la grammatica poi facciamo i kanji e poi dimostriamo il vocabolario dell'n1 però vabbè questo lo ripasserò all'infinito perché il problema di queste cose qua che sono c'è proprio è facile sbagliare perché ti insegna yoga nai yomo aru yomo nai yomo nimo nai che sono molto semplici è facile sbagliarle cioè è facile confondere però vabbè ripasseremo all'infinito come tutto il resto prima o poi le impareremo siamo arrivati alla lezione A5 che la facciamo domani domani facciamo 5, 6, 7 mi sembra 5, 6, 7, 8 lo seguo cioè mi blocco dove ci sono gli eserci 5, 6, 7, 8 quindi dalla A alla 8 e finiamo la parte A sono solo fino alla G quindi in quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in due settimane abbiamo finito la grammatica questi qua sono un po' più lunghi di libri però vabbè in due settimane ripasso il libro quindi va bene così niente come al solito grazie Dekuro Torikusta Kyujugo per la sub grazie a Massi che mi ha fatto la sub e grazie a Proto che mi farà la sub domani niente grazie anche come mai che si chiamava quello che mi ha fatto prima il follow non me lo ricordo però ti ringrazio lo stesso Mattaniago Acora Acora mi sembra che si chiama a 1976 sei vicino alla mia età siamo a due anni di differenza io sono più vecchio e come al solito Gosciccio Arigato Cosai Master che l'ha scritta anche un po' storta mi sembra un po' storta la drizziamo nel frattempo non so perché è storta ah ho capito perché è storta o no non ho capito adesso è in mezzo perché mancava un pezzo io ero arrivato al nero ma il nero non era la fine dell'immagine adesso è verità Gosciccio Arigato Cosai Master che grazie per avermelo visto e sentito ci si vede ban presto come ci vedono tutti alla Bandai tanti baci tanti abbracci buona giornata a tutti e ricordatevi che Tora è cattivo e mi morde sempre bye bye te non sei del 1956 eh quando avevo dieci anni poi dopo son cresciuto bye lì ciao a tutti i nostri spettatori ciao a tutti i nostri spettatori